Una settimana di interscambio culturale con studenti di Polonia, Turchia, Romania e Spagna. La scuola, l'istituto Firmi di Aversa, lo scientifico, sempre più in Europa. Sì, effettivamente, come dicevamo prima, fuori dalle telecamere, è stata una settimana molto intensa, ma è stata una settimana effettiva di scambio culturale, dove i ragazzi hanno lavorato insieme, fianco a fianco, hanno condiviso le loro esperienze con i ragazzi di altri paesi, ma la cosa più importante è che abbiamo dimostrato anche che, nonostante tutte le nostre difficoltà, ci siamo, effettivamente il Firmi è in Europa. Proprio la dimensione europea è uno dei punti di forza del suo istituto? Sì, la dimensione europea è fondamentale, perché io dico sempre, insomma, è importante pensare al locale, ma bisogna ragionare oggi sul locale. Quindi i ragazzi sono proiettati ad una dimensione europea, ma oltre, insomma, anche a una dimensione internazionale. Molti sono i nostri ragazzi che effettuano anni all'estero, in Chicago, Finlandia, sono diversi i sistemi europei che accolgono i nostri ragazzi e noi accogliamo ragazzi di altri paesi, ma per un anno intero, quindi è importante anche questo aspetto. E in più stiamo cercando veramente di lavorare tantissimo sulla lingua veicolare, che ormai è diventata l'inglese, poi penseremo anche a altre lingue. Non a caso il Fermi è vincitore di un concorso nazionale per il progetto che riguarda l'Erasmus. Sì, noi siamo alla terza edizione, prima erano Comenius, adesso Erasmus+, e siamo abbastanza attivi in questo. E poi soprattutto il tema, perché adesso diciamo che l'aspetto dello scambio è quasi marginale nei progetti Erasmus+. Quello che è importante è discutere su tematiche comuni per cercare insieme di affrontare queste tematiche. E la nostra tematica scelta quest'anno dall'Europa e dai partner nostri europei è la biodiversità. Quindi questa è la cosa fondamentale che ci tocca più da vicino, quindi partire dal nostro locale per poi ampliarlo al locale. Dal 7 febbraio al 13 tantissime iniziative messe in campo, ce le puoi sintetizzare? Sì, tantissime iniziative che sono andate a far conoscere i posti più belli della nostra regione ai ragazzi provenienti da altri paesi, ma soprattutto cominciare a far capire loro che in realtà noi non siamo fermi, non ci siamo assuefatti a questo stato di cose, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato che effettivamente possiamo uscire fuori dall'etichetta di terra dei fuochi che ci hanno dato. Stiamo lavorando per questo. In questa giornata conclusiva di accoglienza c'è anche la consegna degli attestati per gli studenti più meritevoli dell'anno scorso. Un'altra bella iniziativa. Sì, abbiamo voluto unire queste due iniziative. Il saluto ai ragazzi che tra stanotte e domani ripartono per le loro nazioni. E abbiamo voluto premiare le nostre eccellenze. Il Fermi riparte dalle proprie eccellenze e ne sono tante. Questo ci rende veramente orgogliosi di avere al Fermi 10 ragazzi che si sono diplomati l'anno scorso con 100 e lode e 45 con 100. Quindi è veramente un bel successo e io sono orgogliosa di questo. Chiudiamo purtroppo con una nota dolente. Nei giorni scorsi c'è stato un mega furto al suo istituto. Praticamente sono stati trafugati quasi tutti gli strumenti tecnologici della scuola. Fra l'altro la didattica 2.0 è proprio un aspetto su cui lei punta molto. Sì, purtroppo l'Europa ci dà i fondi da una parte, ma queste sacche di devianza, chiamiamolo criminale, come la vogliamo chiamare. Perché chi ruba un computer da una scuola penso che meriti ben altro che essere definiti dei delinquenti. E purtroppo siamo amareggiati. Perché l'anno scorso abbiamo subito un furto di 40 computer. peraltro subito ricomprati, grazie anche ai nostri ragazzi che attraverso la partita del cuore hanno finanziato l'acquisto di questi nuovi computer. Faremo la stessa cosa anche oggi, anche adesso. Purtroppo ci siamo premuniti, ma non è stata abbastanza.